allora forse si è interrotto il video precedente dunque il sistema BEM fu diciamo perfezionato ancora da Molnour e però ecco cosa cosa accadde alla fine dell'ottocento all'inizio del novecento dopo l'introduzione della chiave del BEMOL grave evidentemente molti granettisti non si trovavano esattamente a proprio agio nel dover trasportare le parti per clarinetto in là magari perché vi erano molti molte alterazioni e allora Triebert sempre con Buffet brevettò un adesso c'è la comparsa dei clarinetti a doppia tonalità quindi brevettò un sistema con una canna interna che aveva 24 fori 12 per il sistema in Zb e 12 per il sistema in là che veniva spostato e quindi questo clarinetto da Zb si potreva trasformare in là quindi anche in Italia poi vi furono questi clarinetti a doppia tonalità Rampone, Cazzani, Orsi nel 1880 appunto inventò un clarinetto di combinazione capace di suonare in Zb in là seguito appunto dalla ditta Rampone di Milano grazie appunto al clarinettista Leone costruì anch'esso una un clarinetto a doppia tonalità con una doppia appunto serie serie di fori una per la tonalità in Zb e l'altra per la tonalità in là quindi diciamo questo congegno copriva i fori diciamo del si bemolle e apriva invece quelle del la e viceversa ecco quindi poi praticamente sono andati a scemare perché diciamo dei sistemi molto artificiose ecco non l'intonazione non era mai perfetta quindi era più che altro un clarinetto di comodità ecco più che più che di altro allora altri sistemi appunto a parte quello close band reform band a parte quello holler altri 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 sistemi anche a doppia tonalità furono introdotti anche alcuni con sistemi innovativi per migliorare alle note di goal all'intonazione alcuni passaggi però ecco sicuramente sono state su piantati sono in disuso perché quelli citati prima close holler diciamo sono quelli più adoperati anche se in certo qual modo anche il sistema albert quello che diciamo si diffusere in belgio anche in germania o tra i primi artisti jazz americani diciamo anche questo ecco fu sostanzialmente un perfezionamento del sistema muller con l'innovazione appunto del costruttore sax via anche il sistema romero sviluppatasi in in spagna via anche il sistema clinton via anche il sistema stark via anche il sistema smith gold tutti dell'inizio del novecento sono meccanismi che volevano diciamo ovviare alle note di gola oppure a una doppia leva per la chiave del portavoce la chiave diciamo del del si bemolle quindi come chiave tonale due due chiavi differenti oppure un sistema diciamo ingegnoso quello del nostro primo dell'argine era il sistema diatonico aveva i tutti fuori della stessa della stessa grandezza ed era una posizione stabilita scientificamente con un con un solo tito si dovevano azionare ben nove chiavi quindi un sistema che ovviamente non attecchi perché la tecnica era completamente diversa dai sistemi francesi e tedeschi da segnalare anche il sistema mckintre il sistema mazzeo che appunto cercò di migliorare la funzione della chiave del portavoce il sistema benati del 1970 sistema stubbins sistema marchi che addirittura voglio volle migliorare le note acute mettendo una chiave che arrivava fino al barilotto ecco quindi infine voglio segnalare il modello pupeschi che attraverso un sistema di accorciamento o allungamento del barilotto cerco cerco di migliorare l'intonazione quello spettacolare del 1937 di schuller costruito per quarti di tono ecco questa è la conclusione per quanto riguarda questa carrellata sulla storia del carinetto ma tutti questi aspetti poi verranno approfonditi quando parleremo meglio della prassi esecutiva